il Varese adesso con questa azione di contropiede palla sulla sinistra con il numero 10 netto per era palla dentro, il gol del Varese va a porta in avantaggio esplode il Franco Ossola la maglia numero 5 Buzzegoli firma un'attività per lui, è vero, è un'amichevole però che prestigio, che gioia, che onore poter segnare al Milan la prima verazione degli avversari è andato a subire il gol azione di contropiede ficcante a mezzo da netto per era è stato un assist raccolto perfettamente da Buzzegoli da Sedorf buona era per Calazze con l'esterno ad aprire attenzione all'errore di Calazze che va a servire in verticale poi il gol del Varese per 2 a 0 questa volta la firma è quella di Cellini l'errore di misura, l'errore nell'appoggio di Calazze in orizzontale non poteva arrivarci Oddo la palla troppo distante per lui e allora è intervenuto Zecchin il quale ha trovato in verticale l'inserimento di Cellini il buono è la sua dribbling rivediamo qui appunto Zecchin la palla in verticale, il dribbling sullo stesso Calazze e poi la palla sul secondo palo nulla da fare per Abbiati che poteva solo battezzare un palo piuttosto che l'altro e questo è andato è andato e il palo